Lascia fare per ora, poiché conviene che così addempiamo ogni giustizia. Riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù torna dai discepoli e li trova addormentati. Si rivolge a Pietro, invitandoli a pregare per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Veronica asciuga il volto di Gesù. Simon Pietro entrò nel sepolcro e osservò i teli posati. Poi entrò anche l'altro discepolo e vide e credette.